Voglio dare tutto semplificato, siamo venuti qui con i buoni favori, ragazzi, 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 adesso ci stanno in casa, ora abbiamo dato di meno. Abbiamo un po'? Eh sì, cadastro qui sì. Sì, ma hanno sbagliato tanto anche loro, io ne vedo comunque nel rosso anche loro. Non sono tratti a prendere perfetti, quindi si può fare, non può male, dobbiamo recuperare la stessia, dobbiamo recuperare, mettere sotto pressione in un'esame capace. Cos'è mancato... Aspura, ho già rotto, scusa, vai. Cos'è mancato questa sera nel quarto set? Sembrava che ancora la partita potesse essere ancora rivoltata. Eh, non è mancato niente, loro sono un po' più freschi di noi. Quale per la prima volta non è una scusa, però è troppo sufficiente, dobbiamo recuperare l'energia. Grazie, ma grazie.